Un progetto per insegnare ai più piccoli l'importanza del prendersi cura. E' quello portato avanti dalla scuola materna Serafino Becone di Torre del Lago, che ha fatto sì che per i bimbi dell'istituto si aprissero le porte della locale caserma dei Carabinieri, dove il comandante, il luogotenente Carlo Chiarotti, ha spiegato le funzioni delle donne e gli uomini dell'arma, sia in termini di lotta al crimine, ma soprattutto per quello che riguarda il servizio ai cittadini. Dopo una breve chiacchierata introduttiva, i bimbi hanno avuto la possibilità di vedere da vicino e di salire sui mezzi in dotazione, dalle auto di servizio alle moto. Ma il momento sicuramente più emozionante è stato quando ai bambini sono stati consegnati i mezzi elettrici che un imprenditore della zona ha donato alla scuola e con i quali hanno potuto effettuare delle lezioni di guida accompagnati da Carabinieri della stazione. Noi quest'anno abbiamo fatto un progetto che parla di prendersi cura degli altri, ma non solo come esseri umani, ma anche vegetali e animali. In questo caso si parla di prendersi cura delle persone e quindi siamo venuti qui da Carabinieri per insegnare ai bambini come loro si prendono cura di noi. I bambini sono stati tutti molto attenti quando il maresciallo spiegava. Sì, erano molto curiosi, volevano capire le cose e anche adesso stanno facendo tante esperienze importanti che serviranno anche nel futuro per capire cose nuove. La visita si è conclusa con la consegna dei gadget scolastici dell'arma, con quaderni, blocchi e penne riportanti simboli istituzionali dei Carabinieri.